Laboratori d'analisi che pur avendo avanzato lo stesso ricorso hanno ricevuto trattamenti differenti. Sono circa 350 le strutture siciliane che rischiano adesso di chiudere i battenti a causa di una recente lettera ricevuta dall'ASP. Dovete restituire le somme, si legge, potete anche pagare a rate. L'azienda sanitaria provinciale fa riferimento ai circa 200 milioni di euro illegittimamente incassati dai laboratori a causa dei ritardi sull'introduzione del tariffario Bindi in Sicilia. In questa richiesta però sembra non siano inclusi proprio tutti. Sono 84 infatti le strutture che lo scorso giugno sono riuscite a conquistarsi una pronuncia favorevole dal Tar. Si tratta di un provvedimento iniquo e dagli effetti devastanti, ha commentato il presidente della Confederazione per la tutela dei diritti della sanità, Domenico Marasà. C'è una palese disparità di trattamento tra strutture che hanno avanzato lo stesso ricorso. Ma non è tutto, le stesse tariffe infatti sarebbero state usate anche dagli ospedali e dalle strutture pubbliche. Non avrebbe senso chiedere un rimborso al pubblico, visto che si tratta di somme del sistema sanitario nazionale che dovrebbe rifarsi su se stesso, ha commentato Ignazio Tozzo, dirigente generale dei due dipartimenti dell'assessorato alla salute. È una follia pensare di poter rivedere tutte le prestazioni. Il rischio imminente dunque è che i laboratori d'analisi chiudano non riuscendo a restituire le somme richieste.